La tecnica può dare un cambiamento reale nelle persone che hanno fatto questo lavoro. Fai così, metti la mano dietro. Molti volte le persone lavorano troppo sull'embalutics. Perché? Perché si tratta di un'embalutica? Perfetto, fagli chiudere gli occhi. Poi a questo punto fai dei passi. Fai all'altezza del plesso solare. Ok. Marina e Alessandro voi rimanete con le coppie che vi siete formati adesso. Cosa è migliore? Non facciamo... Penso che sia la cosa migliore. E poi gli spieghi cosa fare e lei stessa... Magari farà solo i passi, però rifare ai passi. Spiegate cosa sono i passi. Ok. Fai così. Fai così. Fai così. Fai così. Fai così. Si usano le tecniche verbali. Ma... ...missà che sono quindi fai così. Ma... ...due il cliente... ...è più utile ...non le tecniche verbali. ... 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